Sono due gli indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sugli alberi caduti nella capitale tra il marzo 2023 e il marzo 2024. Su registro degli indagati sono finiti i nomi dei vertici del Dipartimento Tutela Ambientale e della Gestione Territoriale Ambientale del Verde del Campidoglio. A loro si contestano reati dolosi e colposi. Per quella caduta di grossi rami e anche alberi lo scorso novembre è morta anche un'ottantenne, schiacciata proprio dal crollo d'un albero mentre camminava in via Donna Olimpia a Roma e la Procura aprì un fascicolo per omicidio colposo. La donna, 82enne, si trovava sul marciapiede quando il grosso albero si spezzò a circa un metro e mezzo da terra. L'assessora a Capitolina L'Ambiente, Sabrina Alfonsi, commentando l'inchiesta della Procura, ha spiegato che questa amministrazione, fin dal suo insediamento, ha segnato un deciso cambio di passo rispetto al passato per quanto riguarda la tutela e la messa in sicurezza del patrimonio arborio e dei cittadini della capitale, dopo anni di incuria e di abbandono. Sono state eseguite oltre 96.000 potature contro le 6.000 del 2020, quasi 18.000 abbattimenti contro gli 8.100 dei cinque anni precedenti. L'inchiesta è solo all'inizio, coinvolge dirigenti e tecnici capitolini. Il loro numero potrebbe presto aumentare.